Sono 13 gli avvisi di garanzia inviati ad altrettanti medici, 6 dell'ospedale Fatebene Fratelli di Benevento e 7 del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per la morte dell'insegnante salernitano 52enne Giovanni Mecca, ucciso da una peritonite sviluppatasi a seguito dell'intervento per la riduzione dello stomaco al quale era stato sottoposto. Sul decesso dell'uomo è stata aperta un'inchiesta da parte della procura di Salerno a chiedere che sia fatta chiarezza i familiari della vittima. Al nosocomio salernitano era arrivato in condizioni disperate e nonostante sia stato sottoposto a due interventi i medici non sono riusciti a salvarlo. Sembrerebbe che per i sanitari salernitani l'avviso di garanzia sia stato un atto dovuto al fine di poter procedere all'autopsia effettuata qualche giorno fa. Mecca con un peso che andava oltre 150 kg aveva diversi problemi di salute dovuti alla sua condizione e aveva deciso così di sottoporsi all'intervento di riduzione dello stomaco. L'operazione era stata effettuata a Benevento e dopo un apparente normale decorso post-operatorio l'uomo era stato dimesso. Tornato a casa pare abbia cominciato ad accusare i primi malori. Le sue condizioni sono poi peggiorate al punto che si è reso necessario il ricovero nell'ospedale salernitano dove nonostante i tentativi di salvarlo è morto.